Cucu raga, ciao sono io, questo è un video brevissimo, prima volevo farvi vedere questo bellissimo ritratto di Millie e Pissarè che ha fatto la nostra amica Valeria D'Agostino, forte eh? Ma poi perché sono qua? Un attimo che lo appoggio, eccomi, dicevo, perché sono qua? Qua sono nelle segrete dei piazza affari, c'è un po' freddo e allora mi sono vestito pesante, un po' da neve, ma proprio perché qua è il reparto neve di piazza affari, qui siamo sotto il negozio e qui abbiamo pantaloni, giacche, tute, maglie termiche, cuffie, guanti, scaldacollo, fasce, tutto quanto riguarda la neve e stare bello al caldo come la mia cuffia della Marshall Angel, ma qui ne abbiamo, ne abbiamo raga, inizia a trovarci, venite qui di sotto, qui sotto, adesso le appoggiate un po' qua, ma qui c'è pieno, 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 pieno di giacche, tute, eccetera, la sci, ok? Quindi vi aspetto qua di sotto. Ciao ciao!